Mi presento, sono Gaetano Fiore, sono in uno spazio a me congeniale, è stato per me mettersi in gioco cercando di capire come e in che modo tradurre la mia pittura inserendola in un cubo, in una struttura che fa da contenitore delle mie opere, una struttura particolare che non è né parete né piano d'appoggio ma è un qualche cosa che diventa un contenitore per metterci dentro delle mie opere e che in questo contesto diventano cose che dialogano con lo spazio. Non a caso il lavoro che faccio ultimamente è una ricerca proprio sullo spazialismo, uno spazio diverso che nasce da lontano, che nasce ovviamente dalla mia esperienza con il teatro, che ha a che fare con le quinte, con le scene, con le luci, il colore, ma è uno spazio completamente diverso da indagare e questo mi ha messo nella condizione del rischio. La pittura è un rischio, è mettersi in gioco continuamente. Parto da lontano, parto dalla pittura concreta, parto da esperienze che hanno a che fare con uno spazialismo logichiano per arrivare invece ad uno attuale, quello proposto in questo cubo che è completamente diverso. è uno spazialismo dinamico in cui la pittura si muove, è una pittura in movimento, coraggiosamente mi sono manciato appunto in questa operazione un po' alla Sutherland, in cui ecco la pittura genera azioni e non a caso in questo contesto teatrale, così come il pacto ha offerto, credo sia stata un'operazione alquanto entusiasmante per noi. Quindi ecco qui si possono ammirare alcune opere che sono sistematicamente pensate per le pareti, ma qui assumono e quindi si traducono in qualcos'altro perché la struttura di questo spazio lo rende, come dire, magico. Grazie a tutti.